Partiti! Dall'esterno Take Shift cerca di portarsi in vantaggio nei confronti di discussion, terza posizione già netta, all'esterno c'è la risalita anche di Ticchiriki anticipato da Double Ant and Dre, con Royal Force che filtra per linea interna e si porta in vantaggio nei confronti di Take Shift che insiste al suo esterno, i due in aperto dibattito, poi Take Shift converge lungo lo steccato e passa in vantaggio nei confronti di Royal Force, poi Jeannette Double Ant and Dre a contatto d'Eilanger, poi più all'esterno discussion, quindi Ticchiriki che avanza a piedine più esterne, fai di Viri World Brand quando i cavalli entrano in addirittura per il primo passaggio davanti alle tribune con Take Shift in vantaggio nei confronti di Royal Force, in terza posizione c'è Dailang, all'esterno Jeannette, poi in mezzo alla pista Double Ant and Dre, linea interna e fai di Viri, discussion, Kikiriki, World Brand, per se partner, Rena Ione a contatto fa Gutella, quindi dimmi di su e Cruscia la massima retroguardia. In tale ordine i cavalli affrontano la penultima piegata con Take Shift, sempre in vantaggio nei confronti di Royal Force, Dailang, Jeannette a contatto, quindi Kikiriki nel risalita esterna che cerca di aggirare Double Ant and Dre, a contatto anche di Scuscio, per linea interna e fai di Viri, quando si entra nel vivo della forza ai tre quarti del rettilineo opposto, accelera in maniera decisa Take Shift, si scrolla di dosso Royal Force, guadagna un paio di lunghezze tonde di vantaggio ai rivali, quando il gruppo si va comunque a ricompattare a metà della piegata conclusiva Take Shift e Jeannette, che per ora sono in vantaggio, c'è la risalita all'esterno di tutti di Crusce, che sta venendo su con altro passo, quando si va ai tre quarti della piegata conclusiva, si entra in addirittura di arrivo Take Shift in vantaggio nei confronti di Kikiriki, c'è un scatto di Crusce che sta passando in vantaggio nei confronti di Take Shift, fai di Viri, Kikiriki, Crusce c'è l'ho in vantaggio nei confronti di Kikiriki che lo rimonta all'interno, Kikiriki ha preso vantaggio, Kikiriki va a vincere su Crusce al terzo posto in sette di fai di Viri, Kikiriki, Marcelli, Ancolmarcai in controllo nelle ultime fasi, e l'ha passato Crusce, Kikiriki ci ha creduto e fino in fondo ha rimontato il rivale e lo ha piegato proprio a fil di palo, ancora Marco Gasparini mette un sigillo nella Coppa del Mare, ha presentato Kikiriki al top della condizione, addirittura nel finale Marcelli Ancolmarcai si permette di alzare il pugno al cielo e vincere in maniera netta questo.